Tayon Buchanan, ultimo acquisto nerazzurro, ha rilasciato la sua prima intervista a Inter TV, raccontando le sue motivazioni e aspirazioni per il suo approdo al club italiano. Benvenuto all'Inter, Tayon! Qual è stato il motivo dietro la tua scelta di venire nel club? A questo punto della mia carriera, sento che questa è la decisione giusta per me. Seguo l'Inter da molto tempo, è una squadra nella quale mi identifico e sono entusiasta di ciò che riserva il futuro. L'Inter è attualmente in testa alla classifica, come pensi di dare un contributo alla squadra e quali sono i tuoi obiettivi? Voglio vivere questo percorso giorno dopo giorno, dedicandomi al massimo. Il mio obiettivo è adattarmi rapidamente, assorbire il più possibile dall'allenatore, dal suo team tecnico e dai colleghi più esperti. Voglio imparare tanto e aiutare la squadra. Lascia un mi piace al video se ti è piaciuto l'acquisto di Tayon Buchanan e iscriviti al canale per ricevere le ultime novità dall'Inter. La sua versatilità è notevole, capace di interpretare ruoli diversi e di adattarsi a diversi stili di gioco. Sarà questo un grosso vantaggio per Simone Inzaghi? Sì, sono un giocatore versatile, posso giocare in più ruoli, ma il mio obiettivo è assorbire più conoscenze possibili, essere a disposizione della squadra e adattarmi allo stile di gioco. Oltre alla sua versatilità, è notevole la sua velocità, essendo uno dei giocatori più veloci dell'ultima Champions League. Come descrivi le tue caratteristiche di giocatore? Sono un giocatore diretto, a cui piace affrontare il marcatore nei duelli individuali e incidere sul campo avversario, creando superiorità. Recentemente ho giocato come terzino destro e so che posso migliorare la mia prestazione in difesa. Sarai il primo canadese a giocare nella Serie A italiana. Come ti sei preparato a questa sfida? Sono estremamente orgoglioso di essere il primo canadese a competere in Serie A, è un risultato che mi riempie di orgoglio. Sono consapevole di ciò che mi aspetta e intendo imparare dalla squadra e dai miei colleghi per farmi trovare pronto. I tifosi nerazzurri sono molto appassionati. Cosa ti aspetti da questo supporto e quando pensi di debuttare a San Siro? Onestamente non so cosa aspettarmi perché non ho mai sperimentato nulla di simile in vita mia. Guardando le partite in tv, noto l'incredibile sostegno e la massiccia presenza di tifosi allo stadio ad ogni partita. Non vedo l'ora di dimostrare cosa posso fare e di aiutare la squadra il più possibile. Adesso tocca a te, cosa ne pensi delle parole di Tajon Buchanan sul suo arrivo all'Inter? Come ti aspetti che si distingua in squadra? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto.